Tipetti concreti voi amici del toro e lo dimostrate anche nel cibo. La vostra pizza non può essere leggera, no non può. Voi avete bisogno di qualcosa di solido e robusto, una bella pizza, patate e salsiccia. Vi aiuterà ad affrontare tutto ciò che c'è al di fuori della sala da pranzo. Mi raccomando non alzatevi dal tavolo finché non siete sazi.